Ferre, dopo tanto tempo ci hanno richiamato per fare i dettivi, non so quanto tempo abbiamo passato senza fare il nostro amato lavoro E forse siamo un po' arrugginiti qui, Steph, se è sicuro che possiamo essere all'altezza? Non lo so, Ferre, però c'è stato un delitto in questo villaggio, ci sono sei abitanti, ok, e il settimo è stato ammazzato Eh, ma che triste, già erano pochi, Steph Lo so, già erano pochi, non ho capito come hanno fatto a litigare tra loro, quando siamo pochi Poveri Sì, tutti insieme, tutti allegri, però, Ferre, è capitato Quindi dobbiamo stare molto attenti, molto concentrati ed investigare Sembra praticamente che ci siamo spostati dal secondo canale di Steph e Ferre con i crimini al primo canale su Minecraft Beh, ma c'è da dire che i crimini su Minecraft ce li hanno chiesti tanto, Steph Lo so Quindi è anche giusto tornare in azione Allora, vieni qua, vieni qua, vieni qua, vieni qua Questo qua è la scena del crimine, ok È proprio morto, stiamo sicuri che non si è svenuto? Ferre, fai il tasto destro Beh, sì, in effetti Fai il tasto destro, fai il tasto destro Vedi, vedi, vedi Ok È morto È proprio una situazione grave Sì, gli hanno messo anche il codice della scena del crimine Questo, secondo me, è il codice della morte, no? LQF 2002 Vuol dire morto, secondo me, no? Ma lo sapevo, ok Tu li sai i codici dei detecchi? No, no, no Io non bene, Steph, non me li ricordo a memoria Diciamo che non abbiamo fatto i corsi che avremmo dovuto Ma adesso non lo sa nessuno Comunque, ovviamente, parliamo prima di tutto con il sindaco della città Anzi, del villaggio, perché città è un parolone, perché è un villaggetto piccolo piccolo Aspetta, è una cittadina, una mini cittadina Esatto, quindi parliamo con lui e vediamo un pochino cosa ci dice È bello, Steph Anche la corona è importante, quindi portagli il rispetto Steph, è appunto il capovillaggio, quindi è ovvio che è importante Lo sapevamo già, te l'avevo detto È ovvio che sia importante Ciao, Steph, immagino che tu e Steph siete degli investigatori, giusto? Vi ho chiamati perché c'è stato un diritto del nostro villaggio ieri sera Sì, sono io Siamo noi, scusa, Steph Non mi sbagliare le risposte Siamo noi Siamo noi Ottimo Ecco alcuni dettagli che potrebbero esserti utili Faire, concentrati in questi momenti che qua è il momento importante Marco è la persona più gentile che io abbia mai conosciuto Non so perché qualcuno potrebbe volergli fare del male Ma questo lo dicono ogni volta però a fine si scopre che il tipo era cattivissimo E trattava tutti male Lui era il fabbro del villaggio, gli trova sempre tutti Ultimamente sono arrivate alcune nuove persone nel villaggio E lui è stato ucciso Dobbiamo assolutamente scoprire chi è stato Quindi lui sta già subito andando a parare Che potrebbe essere qualcuno che nel villaggio è arrivato da poco Quindi è già un indizio Però c'è anche da dire che gli ultimi arrivati sono anche quelli che tecnicamente stanno più antipatici Quindi magari vuoi far ricadere la colpa su di loro Piuttosto Ok Che accusare un tuo amico, un abitante che magari abita lì da vent'anni, capito? Finiamo di leggere Perfetto, vuoi pure dimestigare ovviamente il permesso di interrogare tutti gli abitanti della città E di controllare le loro case se c'è bisogno Vai e trova l'assassino Ok E noi andiamo e troviamo l'assassino Perfetto, allora da chi iniziamo? Vediamo Fare secondo me lui Allora, eh esatto, ti stavo per dire La guardia La guardia è la prima da interrogare Avrà per forza visto o sentito qualcosa Bravissima, bravissima Allora, quindi si chiama Amethyst Salve Amethyst Cosa stavi facendo ieri sera, Amethyst? Cosa intendi? Io sono una guardia Ovviamente stavo sorvegliando il villaggio come tutte le sere Il mio compito è proteggere gli abitanti del villaggio dai malintenzionati L'ho fatto da Dio, eh Proprio, è brava come guardia Perché me lo chiedi? Guardi, non so niente nulla E qualcuno è stato ucciso Tu hai visto qualcosa? No, non ho visto nulla Ma ti posso dire che cosa non ho visto Ok Ieri non ho visto quel pazzo di un esploratore uscire di casa Dovresti andare a parlarci Comunque continuerò ad investigare anche io per darti una mano Grazie per l'aiuto Figurati torno a sorvegliare il villaggio Yahì Yahì È felice Non dovresti essere felice Cioè è fallito nel tuo compito di guardia Ma non dovrei essere io a dirtelo Dovresti capirlo da solo Quel pazzo di un esploratore uscire di casa Ok, Ferri, direi di andare a parlare con l'esploratore No? C'è la guardia Si, si Si, suppongo di si Parliamo con Faolan Che nome è strano Faolan Vabbè, l'esploratore sarà un nome esotico Vabbè, cosa stavi facendo ieri sera? Come esploratore il mio lavoro consiste nell'esplorare nuove terre Non mi fermo mai È un lavoro davvero duro Sì, ma la guardia certo che sei E dove ti trovavi ieri? Ok, stavo mentendo Il mio lavoro è divertentissimo È strano sto tipo E ieri mi trovavo nel nether Ho sconfitto creature leggendarie Raccolto alcune delle risorse più rare del mondo E nel mentre stavo mangiando delle torte Ti direi di andare a controllare Ma i dambi non sono i benvenuti Ha 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 Ferri? Hai un'arma? Sì, una spada di diamante Dammela Lo uccido, Stef Ferri? Faccio il secondo omicidio in sto villaggio È lui, è colpa sua Ti spacco la faccia Non volevo essere mai educato Io sono esploratore e tu un detetive Dobbiamo rispettarci la vicenda In ogni caso ti consiglio di andare a parlare con il nuovo arrivato del villaggio Ho sentito dire che è vegetariano Ma sono quasi sicuro di averlo visto mangiare un hamburger qualche giorno fa Ma saranno affari sui E che vuol dire? Favolane Ma magari era un hamburger di soia Quindi non vuol dire nulla Ci hanno dato il permesso di entrare nelle case Se uno è sospetto Quindi sinceramente controlliamo se è davvero andato nel nether Vieni, vieni, vieni Aspetta, si chiude la porta come entri Ok Beh, allora un portale del nether c'è E fin qui va bene Qui sotto c'è un posto figlio Che figo Va bello Strabello, Steph Figo Questo penso che siano Aspetta, volevo aprire la cesta e non toccare queste Delle ceste, delle ceste Ci sono un sacco di suoi tesori Un sacco di cose che si è preso Esatto, tutte le cose che lui ha preso durante i suoi viaggi Non mi sembra ci sia niente di troppo strano Che c'è? Che praticamente non possiamo risalire Perché lo slime non ci fa saltare abbastanza Sì, ho notato Ci tocca rovinare un attimino Ma no, è un peccato, Steph Lo so Come facciamo? No, saltare insieme Salta Pronta 3, 2, 1, vai Via Dai, che poi lo posso risalire io, Steph Non ho neanche un piccone Non c'è la cesta con i picconi? Aspetta, aspetta C'è dei picconi? No, c'è una pala Controlla dove c'è la pala Magari ci sono altri utensili No, qua c'è la No, non c'è nulla Aspetta Ma perché ci siamo Un'idea, 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 un'idea Un'idea Ok Ti è piaciuta? L'abbiamo allagato casa, Steph Non penso che sarà Toglila, toglila Poi l'acqua Vabbè, tanto ci avevo insultato Quindi una scherzetta ci sta Vabbè, ma magari è semplicemente Una di quelle persone Che vogliono fare i simpatici Ma poi non ci riescono, capito? Allora, secondo me Lui non è Però comunque stiamo a vedere gli altri Vediamo se qualcuno ci dice qualcosa Non lo so, è un po' sospetto È molto strano Io andrei a parlare con gli ingegnere Sai, sono persone intelligenti Magari ci sa dare qualche consiglio Normalmente, perlomeno Cosa stavi facendo ieri sera? Stavo semplicemente creando La mia nuova creazione di Red Stive Non so cosa sia Red Stive Cos'altro avrei dovuto fare? Sono pur sempre l'ingegnere della città Ok Come si chiama la tua invenzione? Si chiama Useless Machine 3000 Quindi Macchina inutile 3000 Sì Va bene Ci ho messo diversi giorni a pensare a questo nome Penso che sia il nome perfetto per l'invenzione perfetta Se lo dici tu Beh Macchina inutile Non è che sia un gran nome Cosa fa? Anzi no Prima stiamo chiedendo La Useless Machine 3000 Perché siamo sorpresi effettivamente del nome E lui sì La mia migliore creazione Che cosa fa esattamente? È semplice Non fa nulla È proprio per questo il motivo per cui questo macchinario è speciale È talmente semplice che non fa nulla È proprio per questo il macchinario più complesso e particolare di sempre Sentiti libero di andare a vederlo dentro casa Io ormai sono curiosa Grazie Quindi dico grazie Ok È qua Fere Ok 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 The Useless Machine Steph sembra il niente che abbiamo comprato su Amazon Capisci? Aspetta Ti uccide vero Ah Mi ha dato terra Secondo me dovrebbero assumere un altro ingegnere Steph Seth Sei un ingegnere davvero 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 fantastico Molto bella la terra guarda con la tua macchinetta Sì molto interessante Io a questo punto Fere ti direi L'ingegnere è stato inutile Andiamo a parlare con appunto il vegetariano Anche perché qui è a fianco alla scena del crimine Qualcosa la devi avere vista per forza Effettivamente Effettivamente Allora Cosa stavi facendo ieri sera Comunque Hai notato? C'è già la possibilità di ho controllato la tua casa Comunque ha un occhio nero Mi sbaglio No Mi sa che ti sbaglio È un po' strano infatti Cosa stavi facendo ieri sera? Perché me lo chiedi? Non sono affari tuoi Amico Chi dice così? Alla polizia di solito è sospetto Quindi Inizia a calmarti Sono un detective incaricato di risolvere questo diritto Ok Come avrei potuto uccidere Marco? Sono vegetariano Non potrei mai fare una cosa del genere Non riuscirei mai ad ammazzare nemmeno un animale Figurati un essere umano Non sarei mai in grado di farlo Ti chiedo soltanto di non entrare in casa mia Dato che voglio mantenere la mia privacy In effetti ha senso Quindi entriamo in casa tua Ok Esatto Vieni Steph Vieni Esatto Tanto abbiamo il promesso del... Guarda Io vado Aspetta Io vado Qua c'è roba anguria Qua non c'è nulla E si può scendere di sotto Fere Ma non c'è niente Pensavo fosse un bel passaggio segreto Vieni un po' più verso destra Ok allora Qua ci sono angurie E quindi tutte le cose che dice Ci sono zucche Sembra tutto vero Però sembra che ci sia qualcosa dietro Esatto Spostati un attimo Vediamo se riusciamo a spaccare tutto Ma no no Non puoi rompere le ceste F Succede un disastro Fere Ci ha dato il permesso del capovillaggio Ma non possiamo rompere le case degli abitanti Ci ha dato il permesso Quindi possiamo fare tutto E come? Fammi spaccare tutto che controlli C'è una ceste segreta Ho notato C'è una ceste segreta Non riesco a premerla tu? Mi sa che c'è l'hopper di mezzo Vero? Sì c'è l'hopper Mi fa vedere solo l'hopper Ok aspetta 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 in qualche modo Oh Cioè della carne Interessante Interessante mia fere Però Steph scusa Se uno che non riesce a rispettare l'essere vegetariano Non per forza deve essere un assassino Scusa eh Magari vorrebbe essere vegetariano Ma è molto goloso E quindi si vergogna Diciamoli che abbiamo scoperto il suo segreto Vediamo come reagisce Vediamo come reagisce D'altronde alla fine Così avremo la nostra risposta Allora Ho controllato la tua casa O no Mi hai scoperto Ti prego non lo dire a nessuno Non sono vegetariano Non riesco a resistere Quando vedo una deliziosa bistecca Sono una persona terribile Sì ma se hai mentito su questo Puoi aver mentito su tutto Ma no dai Può essere un segreto Ma come posso sapere Che non hai ucciso Marco Comunque mi sa che la prima volta Che sento il nome No l'avevano già nominato Non mi ricordo i nomi Lo sai che ho problemi Mi ricordo i nomi Come avrei potuto procurarmi Queste bistecche così fresche Se lì di sera fossi andato da Marco Ti prego non lo dire a nessuno Però dopo di stare tranquillo Resti comunque un sospettato Sinceramente Non è il nostro compito Comunque fare la spia O comportarsi in modo scorretto Rimane l'alchimista Rimane soltanto l'alchimista Oldham E anche per lui C'è Ho controllato la tua casa Interessante Cosa stavi facendo lì di sera? Cosa stavo facendo lì di sera? Stavo soltanto Preparando pozioni Preparo pozioni Tutte le sere Durante il tramonto Questo ci sta Perché magari è il clima giusto Per creare la pozione Però c'è non ti credo Perché non dovremmo credergli Scusami Perché è un villaggero Hai notato che tutti gli altri Erano abitanti Mentre lui è un villagger Ah Quindi magari non è un vero alchimista No Semplicemente È l'ultimo arrivato Perché appunto Erano tutti abitanti Lui arriva da un villaggio Di villagger Capisci? Ok andiamo avanti Non ti credo Puoi dare uno sguardo a casa Vedere tutte le pozioni Di night vision Che ho preparato ieri sera Anche se Anche se Ho cambiato idea Non puoi entrare in casa mia E qualunque cosa farai Non andare sotto il mio tappeto Se vorrei entrare in casa mia Ti servirà un mandato Sembra sospetto Sembra sospetto Beh Noi Abbiamo il permesso Del capovilaggio Porca mia Quanto piove Abbiamo anche il mandato Noi Abbiamo anche il mandato Quindi Mi dispiace amico mio Se vuoi combattere C'ho la spalla di diamante Allora il tappeto Nel caso vieni pure Allora proviamo prima in casa Esatto Sì le pozioni ci sono Allora è pieno zeppo di pozioni Esatto Ok Però Noi siamo qui Qui sopra Ci sono Redstone Guarda Steph Ho trovato Che cosa? Tutto il tappeto Che cosa c'è? Una scala Ho rotto tutto il tappeto Finchè non l'ho trovata Vai scendi Ok scendiamo Scendi Ok Stai capendo? Sì Stai capendo? C'è anche il diario segreto Leggilo Steph Leggilo Però l'ha scritto in inglese Per non farsi capire Se qualcuno avesse trovato il diario Beh certo Sai com'è Non abbiamo grossi problemi Noi sappiamo che in inglese Siamo detective esperti Praticamente Lui ha parlato Dell'underground village Quindi un villaggio sottoterra Sicuramente il posto dove abitava prima Ma infatti era Oldham Ok Te l'ho sei dimenticato Oldham Sì del villaggio segreto Che avevamo trovato sottoterra Io pensavo si chiamasse Semplicemente come lui Ma evidentemente È lui Ah Ti ricordi? Ok Comunque dice che non è riuscita A mandare la sua lettera Ok Che è riuscita a darla Al postino Ok Guarda È prevalentemente inutile questa lettera Tranne il PS Ok Spero che nessuno qui scopra che cosa ho fatto Passa un attimo Voglio leggerla anch'io Steph Beh guarda No no Voglio concentrarmi bene Passa Fammi leggere Fammi leggere Sinceramente Io so già che è lui Io so già che è lui È stato lui Perché quella frase lì Spero che nessuno scopra che cosa ho fatto Quelle frecce avvelenate Che facevano danno Quelle pozioni di instant damage Perché dovresti prepararle Se sei semplicemente un alchimista Eh Oldham Perché Perché l'hai fatto Parliamo Ho controllato la tua casa Come hai potuto Ti avevo detto di non farlo Non è come sembra Lo giuro Lo giuro Ti prego non mi mandare in prigione Ti prego Lui mi ricattava Te lo giuro Non lo volevo uccidere Abbiamo trovato il colpevole Ma Oldham Già eravamo venuti a trovarti Nella città sottoterra E mi fai questo Già Noi non abbiamo detto Il tuo segreto a nessuno La tua città era lì Tu andrai in prigione E lui fa No Mi dispiace Oldham Mi dispiace Che tristezza però Oldham Sei un po' una delusione E sai cosa faccio? Eravamo amici Ti avevamo fatto il rito della terra No la terra ci vuole Stef Aspetta andiamo nella useless machine Aspetta Aspetta Ragione 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 Il rito dell'amicizia Era quello con la terra Stef Se lo ricordano tutti Ce ne serve tanta eh Se ne ricordano tutti Mi serve tanta di terra Te lo dico Ma abbiamo fatto il rito dell'amicizia E lui ci tradisce così Ma ti sembra Ti sembra normale questa cosa Beh la perichetta è un'altra vita Noi ha ammazzato un tipo Non è che siamo noi Ci ha tradito No ha ammazzato un tipo Perché non si doveva comportare così male Adesso siamo costretti a incarcerarlo Stef E ci dispiace No vabbè dai Non rompere Stai zitto Ci ha tradito Alla fine Ti sei comportato male Comunque non mi interessa Se lo ricattava o meno Perché può anche mentire E poi non è una giustificazione Cioè nel caso Devi andare a parlare Con il capovillaggio E far capire la tua situazione Esatto Non è che puoi prendere E ammazzare Quando c'è un problema Quindi mi dispiace Ok lo lasciamo qui Qualcuno poi arriverà A portarlo via Perché ovviamente non è compito nostro Questa volta non è amicizio al dam Questa volta è una piccola prigione Per aspettare che arrivi la polizia Per ingabbiarti In ogni caso Siamo stati dei detektivi fantastici Anche con questa pioggia Davvero fastidiosa Sì Ce l'abbiamo fatta Abbiamo scoperto il colpevole Siamo stati abbastanza bravi Non è stato troppo difficile Però comunque siamo stati bravi Nel senso C'era il passaggio sotterraneo C'era la lettera in inglese Certo 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 C'era il vegetariano Che sembrava sospetto Comunque Toto Ma pappati un po' di bistecche Tanto ormai lo sanno tutti qua Secondo me ti hanno beccato tutti Anche l'esploratore l'aveva già visto Quindi Non sei molto bravo a nascondere il tuo segreto